...dirette, penso che sono sempre struccata, forse 3-4 dirette che ho fatto col trucco, ma perché le ho fatte di sera oppure quando stavo proprio veramente al lavoro qualche vuole. Come va? Tutto bene tu? Non ho ancora bisogno del trucco, grazie, ho una buona genetica, non uso creme, non faccio nulla, però sì, il trucco ci vuole sempre, o non va da qualche parte. Ciao Iddi, ciao Mustafa. Grazie a tutti. Ciao Emanuele, grazie. Grazie. Tutto bene tu? Grazie. 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 Emanuele. Grazie. 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 raga allora io non ho che sì, tifo Napoli però comunque non è che sono una tifota elagerata io tifo Napoli perché sono di Napoli un attimo che cosa mangia l'hamburger una cosa veloce, indolore presto presto perché devo scendere grazie